Vi porto i saluti dell'amministrazione comunale e del gruppo che rappresento e soprattutto l'amministrazione comunale è orgogliosa e contenta di far parte di questa comunità, di rappresentare questa comunità che è un orgoglio avere le contrade stasera qui in questa piazza che è già bellissima di suo ma stasera è splendida, non solo per i colori che ci daranno gli addoppi e tutti i contradeioli ma vedere una piazza felice e bella pimpante la fa vedere ancora più bella. Oggi parlavo con una contradeiola doc, gli rubo le parole, sono le parole di un contradeiolo qualunque, tanto per non farmi nomi, oggi parlavo con Giulia Bener, mi diceva per me come per tutti i contradeioli stasera forse è la festa più bella, la serata più bella perché inizia il palio proprio stasera, oggi stasera siamo tutti frementi, siamo tutti con l'adrenalina al massimo e quindi è proprio il massimo, dice dopo un anno passato dietro ai fornelli, dietro all'impegno di tutte le feste, stasera siamo al culmine, si parla di palio e quindi siamo tutti super emozionati. Sono emozionato anche io stasera a rappresentare il comune in questa piazza e mi immagino come siano emozionati i capitani, i quattro capitani stasera gli viene dato lo scelto di rappresentare l'intera contrada e il grande onere di cercare di portare a casa il palio. Però sarà anche un bel peso ma è anche un grande orgoglio per loro perché ognuno di loro sa di avere dietro la contrada che ha una persona singola dall'impegno di portare la vittoria e quindi mi sento di dire un in bocca al lupo vero e che dei quattro capitani non vinca il migliore, vinca il più furbo, il più bravo. Quello che vince sarà il più bravo e quindi buon palio a tutti e grazie a tutti i contradaioli per dare a Pian Castagnaio questa bellissima festa. Sono molto orgoglioso di tutti i contradaioli e di questa bellissima festa. Grazie, grazie di cuore a tutte le contrade. Siamo molto orgogliosi di far parte di questa comunità. Buon palio a tutti.